ZAM TG24, MotoGP con Marquez campione ed ovizioso vice campione del mondo, Valencia deve assegnare il terzo posto con Mignales che ha 7 punti di vantaggio su Linz, il titolo di miglior pilota satellite con Quartararo che ha 23 punti di vantaggio su Miller e il titolo squadre con la Ducati che deve difendere 2 punti di vantaggio su HRC. MotoGP, Stefan Brad critica Cratchelor e Lorenzo, devono imparare a usare meglio il freno posteriore, è la tesi del collaudatore della Honda. MotoGP, sempre tensione in casa KTM, dopo le polemiche con Zarco ecco quelle con Oliveira che aveva contestato la scelta di mettere Binder nel team ufficiale nel 2020. Superbike, nel 2020 la Superbike torna in Germania sulla pista di Oceansleben dove in passato si era corso dal 2000 al 2004. Questo è ZAM TG24.